Benvenuto a mio canale Pino Prestanizzi E sto a chi sto? E vivo? Sono più forte che prima Perché Pino non sube i video? Perché non tengo gana, mira che semplice E il dinero non ha se la felicità però se entra qualcosina in più che da me non sta male Tenia gana di provare Algo che l'ha messo amico argentino dedicato a vosoto Si chiama la fugazzetta La voglio provare Non vi enfadis Le voglio ponere il tocchio del puto amo Decid lo che vuoi, non mi importa Come sta qui un grandissimo amico mio Che sape più che io Questo amico è Carmelo Carmelo vieni qua Eccolo qua Carmelo va Come ha comito qui gratis il cavolo Come sono amico Ha pagato Ha pagato Ho visto molti video di argentino che ha C'era uno che mi sembra che è un amico tuo Gluten Morgan È molto buono Sabe molto Ora vamos alla cucina Con la magia dell'editor Morgan Gluten ha fatto qualcosa che io sono contrario a quello Ha fatto l'acqua e poi ha fatto la harina Come sape più che io Se sta amargando Poniamo l'altra Vedete che è abbastanza idratata Tiene molta acqua È molto blanda È molto blanda Vamo al lío Vamo amassare Vedi che è blanda che è È molto blanda È anche rapida Le poniamo un po' di acqua Le poniamo un po' di acqua Bueno seguimo amassandola fino a che sia compatta. Se vedi che è complicato fare questo movimento. Quero un pochino di harina. Se vedi che non potete fare come faccio io. Bueno, qui la abbiamo. La tapiamo bene, che non entra l'aria. E ora, alla nevera. 24 ore. Adio, ciao. Ci sono 24 ore. La facciamo dalla nevera e facciamo due bolle. Una grande e una piccola. La piccola serve per tapare. Le ho messo qui e le faccio un'altra ora a temperatura ambiente. C'è la temperatura. Abbiamo capito. Sacare dalla nevera e facciamo due bolle. Una grande e una piccola. Tapparla bene con un troppo umido e lasciarla fermentare una ora a temperatura ambiente. E abbiamo questo risultato. Prima di mettere l'orno andiamo a soffrire la sevoglia. Ho visto molti video di mettere la sevoglia in crudo. Io invece no. Vuoi cambiare la sevoglia? Non vuoi mettere la sevoglia blanca. Vuoi mettere una sevoglia rocca, bella, viva. Che ti pare? Perfetto. Non mi fai questo eh? Andiamo a cambiare un pochino. È stilopino. È stilopino. Andiamo alla sartena. Qui abbiamo la sevoglia. Abbiamo questo due sacchetti. La sevoglia è una saltaire rapida. L'uova nell'orno. Un pochino di vino blanco. E' finito. E' finito. Che cipollina che abbiamo fatto. Ma che spinta. Oh che buona. Bella. Che noi abbiamo dato a cuenta che per fare la fuga setta necessitiamo la sartenesta di pastel. E non la prendo. E noi improvvisiamo la fuga setta al vino. Fuga setta al vino. Poi? Poniamo un pochino di azeite. Un pochino. Colquiamo la massa. E la poniamo. Non me la rompere piano piano. E la poniamo. Mira che facile. Bella fermentata. Oh che grande Dio. Mamma mia. Donde vasti? Primero il cheso. Ma che buona? Mozzarella buona. E un cheso. Un cheso che chiederebbe che si può affondire. Che lui quando la come si fonde bene. Muccia mozzarella. Taleggio. Taleggio. Bellissimo. Poner la corcia che buona. Ponerla. Come si chiama la corcia? La cascara. La cascara. La piedra. E ora che cosa fare? Non mi ricordo. La tappiamo. La tiriamo un pochino. Io se tirarla a mano. Alcuno usa il mattarello. Io. Il rodillo. Io a mano tio. Hop. Bella tio. Che buoni che siamo tio. Amico argentino. Sai che mi chiediste un montone. Tiacce via. Così si lavora. Così. Così. Cazzo. Ora. Ponemo la cebolla. E ora che? Nell'orno. Bellissimo. Non si opina. E spero solo che salga bene tio. Se non me vai a matar tutto. All'orno. No. 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 Oh! Oh! Eh? Fugazzetta ha tardato un montone! Mirai che spettacolo! Oh! Bella, tío! Oh! Oh, che pinta! Argentino, amico mio, commentarla se la pinta è bella. Ora lo sentiamo e la vamo a provare. Sono curioso. Nunca ho provato. Oggi la voglio provare. Vamos? Bien dicho! Diamo la messa! Allala! Allala! Bueno, Carmelo, la sacchiamo dal plato. Dice un quadrato. La sacchiamo da... Avere. Uff! Ha caído la cebolla. La cebolla. Quitiamo le... Oh! Mamma mia! Ma che è? Ma che è questa roba, Carmelo? Come lo veis? E spero che lo veis bene. Ora la vamo a provare. Pesa, eh? Ostia, tío! Oh! Tu, cortatelo tu. Oh! Quanto cheso, tío! Tu cortate il tuo, co**o! Vuoi provare? Che è più? È uguale. Oh! Ah, vieni, 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 vieni! Eh eh! Allora il vino? Bellissimo! Oh! 借 DuCE! Tutto amo, tío! Tutto amo, tío! De verda! Ma de verda! Spettacolo! È la prima vez che lo seinergo e in realtà mi ha saluto bene. Algun dia iré in Argentina a verlo, a provarlo. avesse è la misma, buonissima eh tutto ando, no lo so io ah è tu mi ha gustato molto eh bravi, bravi argentino per me, per me, abbiamo posto molta massa no? è buona è buonissima noi continuiamo a comarlo, si accade il video se no, avesse, mirare un video che d'occhi lippoglia che comen non è buonito acabiamo il video e spero che ve lo abbia passato bene grazie Carmelo per averte quedato grazie Pino per avermi quemato ora ti devuelvo il dinero della comida assi stiamo in paz seguimi in Twitter, in Instagram en CazzeCazze101 per la calle no eh per la calle si, toccarle lo cojone se lo merece ciao ciao ragazzi